cari figli questo è il giorno che mi ha dato il signore per ringraziarlo per ciascuno di voi per coloro che si sono convertiti e che hanno accettato i miei messaggi e si sono incamminati sulla via della conversione e della santità figlioli giuite perché Dio è misericordioso e vi ama tutti con il suo amore immenso e vi guida verso la via della salvezza tramite la mia venuta qui io vi amo tutti e vi do mio figlio affinché lui vi doni la pace grazie per aver risposto alla mia chiamata ringraziamo immensamente la regina della pace per questo messaggio di misericordia e di pace vi saluto e vi abbraccio la vostra piccola matita del cuore